Ma era il modo per dire la partenza, parto da lì Non c'è quella violazione della privacy Però lì c'è la torre di Buccieri con la torre di Dulli sull'agra Dulli di Gozzano è là sotto e lui dove c'è quella casa è grossa Grazie a tutti. 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 Buon divertimento. Grazie a tutti. 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 e... 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 e...